Il sindaco Pozzolino è stata una lunga mattinata con i lavoratori di CSP, culminata poi con l'approvazione di questo atto in Consiglio Comunale. Ce la racconta dai suoi occhi questa giornata, questa mattinata anzi? Ma ogni volta che si parla di partecipate la questione diventa complicata perché comunque parliamo di 380 lavoratori, 12 servizi, un altro comune sostanzialmente, anzi probabilmente qualcosa in più perché gli impiegati del comune sono 340, io ho 7 assessori, 7 dirigenti, il segretario generale, insomma qualche problemino ce l'abbiamo lo stesso. In CSP l'amministratore unico ha a se stesso un dirigente e due quadri, quindi mi sembrava giusto dargli un supporto perché la società potesse funzionare meglio, questa è l'unica cosa che ci interessava, supporto che viene a costare meno di quanto preventivato perché poi nel piano industriale doveva costare 250 mila euro, e invece ne costa 170, che vuol dire che di parte fissa se tre persone prendono su per giù quanto un operaio fisico di quinto livello. Diciamo che i sindacati si sono radunati qua fuori durante la mattinata, al centro la questione legata alla TFR che fa ancora discutere e non solo, l'atto proprio che avete approvato quest'oggi in Consiglio. Sì, la questione del TFR è stata una comunicazione errata da parte dell'amministratore a cui probabilmente mancava una parte del percorso che è stato fatto in questi quattro anni, ma ci può anche stare. Perché il TFR, nel caso in cui Città Pulite e Argo dovessero fallire, il TFR come prete la norma è garantito dal fondo di solidarietà dell'Inps, però a scanso di quivoci uno si crea qualsiasi tipo di paracadute, quindi per HCS e per Città Pulite ci sono i soldi che vengono anche accordati da HCS. Per Argo stiamo studiando una soluzione che permetta di creare questo paracadute, fermo restando che comunque la norma prete che intervenga l'Inps. Poi il resto della discussione si è messo in mezzo di tutto, ovviamente da come si è arrivati ad oggi, dai piani di concordato vecchi che sono stati bocciati, ci sono vecchie infrastrutture, si è parlato ovviamente di tutto come è giusto che sia quando stiamo in Consiglio Comunale, va così. Il clima caldo questa mattina anche nelle sue chiacchierate appunto con i sindacati e anche con i lavoratori. Cosa ci aspetta, cosa accadrà insomma? Il clima caldo perché a quanto pare l'interruzione del dialogo è stata dovuta a un misero misunderstanding, a un'incomprensione, mi scuso della mia parte di incomprensione, quindi adesso riprenderemo il dialogo con i sindacati che per quanto ci guarda non si è mai interrotto, per la restituzione della giornata di solidarietà il prima possibile e per l'aumento delle ore ad alcuni lavoratori che stanno a 4 ore, 5 ore, che funzionalmente non danno l'apporto che potrebbero allo svolgimento dei servizi.